Siamo qui, 2023 CHEARING, it's starting now just a session musical rap discovery 446 Mi ritrovo nel mio modo di essere una persona un po' con delle tessere non so se posso entrare nella clinica psichiatrica oppure nella caserma autodidico criocritica me ne vado nei laboratori di criogenica, metto il ghiaccio nella carta igienica cioè non è che un direttore deve eseguire tutte le sue operazioni di retroattore cioè tu prendi il piatto, lo porgi, lo servi, poi lo ricevi, dove lo poggi, ti reservi, tiene clean cosa tiene clean? Forse il chief multiuso, chaff multifuso, chef dove sei? Halo! è qui che mi perdo perché mi ritrovo nella mia jeep 4x4, 4 quarti attacco, 4 quarti art attack Peter Gabriel dove sei con il tuo Arcangel? Io uso Xerat, tu usi Maokai, tu usi Poppy, io uso Popper ma dove vai? Ma perché ti tossichi? Perché hai la tossa? Perché la tosse? Perché ti intossichi? Che trick volevi fare? Avanti con lo skate? Dimmi dove vuoi andare? Vuoi andare a mare? Puoi galleggiare? Come i cinesi metti il casco e lo skate sopra che non galleggia però se va nell'acqua si ammuffa la muffa fa i funghi, te li mangi e sei in coma come Tom Penny che fai? Impenni con lo skate? In avanti o indietro? Chiami a San Pietro, metti le chiavi nella tavola e poi nella tasca metti una cavola, cavolo e fiore che esce dalla sacchetta è piccolino però lo puoi mangiare, se lo fai a casa fai il bollito poi tutti quanti dicono sei cretino e poi tutti quanti dicono sei cretino e poi tutti quanti dicono sei cretino GRANCEBALL DROACK GRANCEBALL DROACK GRANCEBALL DROACK GRANCEBALL DROACK